Siamo qui con Callisto Fedon, che cosa presentate quest'anno a Mido? Quest'anno a Mido presentiamo una continuazione del nostro programma, per cui astucci portocchiali, come li chiamiamo noi, che sono un sistema di comunicare. Il portocchiali non è un contenitore, ma bensì la maniera per cui il nostro cliente comunica al consumatore, all'utilizzatore, il valore del proprio occhiale. Per quest'anno direi che il programma è quello che ormai stiamo perseguendo dagli ultimi due anni, cioè rimpicciolire al massimo il volume e creare novità di super lusso. Per quanto riguarda il settore dell'occhialeria, sappiamo che il 2011 è stato un anno abbastanza complesso e difficile. Voi avete sentito le difficoltà del settore oppure no? Il 2011, a mio avviso, è stata una continuazione positiva del 2010. Quindi le difficoltà adesso, come dire, impossibile che le difficoltà non ci siano, ma se andasse sempre così non sarebbe male. E ora parliamo di Mido. Che cosa vi aspettate da questa edizione? Allora, questa è un'edizione, visto che anch'io faccio parte della squadra che l'organizza, quindi la conosco, l'abbiamo preparata, l'abbiamo studiata. Diciamo che il Mido è un po' il nostro tesoro, quello che noi vogliamo preservare e sappiamo che deve evolversi e che deve rispecchiare le esigenze dei vari espositori italiani ed esteri e che, come tutte le fiere, deve avere un suo futuro che probabilmente cambierà rispetto al passato. Quindi la grande capacità nostra sarà quella di renderla sempre più attuale. Noi ci aspettiamo ovviamente che ci siano tanti clienti. Sì, mi sembra che dai primi numeri quest'anno ci sono. L'interesse c'è, il mercato funziona. Dire che tutto va bene è impossibile, però sappiamo anche che idee nuove devono venire. Esatto. E a proposito di idee nuove, quest'anno la fiera si è presentata in tre giorni diversi rispetto agli anni scorsi, domenica, domenica e martedì. Che cosa ne pensate? Allora, per il nostro prodotto noi facciamo i portocchiali, non cambia molto perché noi in gran parte serviamo i produttori, poi abbiamo il nostro mercato al dettaglio, però per noi la quantità maggiore di lavoro la facciamo con i produttori di occhiali, con le griff, con i grandi nomi. Quindi per noi le giornate personalmente o per la nostra azienda non sono significative. Ovviamente sono un po' difficili come giorni da incastrare nell'ambito dell'attività dell'ottico. e col prossimo anno le cose dovrebbero pian piano normalizzarsi. Studiamole. Bene, allora noi della MidoTV le facciamo un in bocca al lupo e un buon Mido. Grazie, anche per il prossimo allora. Grazie.